ben giunti ancora con noi con spettacolone per un video velocissimo per presentare ceneri delle terre esterne il festival del virfuoco ieri è arrivata questa splendida notizia e inizia il festival del virfuoco oggi festival di fuoco musica vendetta garantisce uno degli spettacoli più incredibili visti finora su eston e su ciò che rimane di questo pianeta ad ogni modo si è invitato ecco il programma molto velocemente vediamo 9 giugno pirati in battaglia eccoli qui escono i pirati su battleground e avremo 17 nuovi servitori e tre nuovi eroi da stasera il 17 giugno invece arriva l'avventura o l'ordaria del virfuoco ecco qui alcune immagini e tutta descrizione dettagliata la locanda subirà qualche ritocco per l'avvio dell'avventura per ogni singolo per giocatore singolo l'ordaria del virfuoco suddivisa in cinque capitoli che saranno tutti gratuiti e sarà la grande sfida fra robo jaraxus e dovremo comandare aranna in battaglia per sconfiggerlo e andiamo avanti un nuovo dorso e il 24 giugno invece arrivano le sfide dell'ordaria del virfuoco e saranno sempre più divertenti e il 24 giugno arriva anche il ritorno di una rissa che si chiama lo scotto finale quindi tante novità tante novità per airstone come il primo luglio arriva lo zuffodromo un'immagine molto significativa ad ricchiere programma c'è anche la rissa lo zuffodromo scegli una classe una delle tante nuove armi scintillante dai via al combattimento quando il virfuoco arde intensamente molti combatteranno ma uno solo vincerà e ancora avanti serie di missioni leggendari che ci saranno tante belle ricompense compresando il capitolo 1 si ottengono le buste poi giocando le sfide si ottengono le buste giocando le liste si ottengono le buste con vari step quindi ci aspettiamo da oggi questo festival del virfuoco sempre sempre più entusiasmante e quindi torniamo all'immagine iniziale e ci lasciamo speranzosi di un grande grande festival del virfuoco con eston ciao a tutti